Vale 3 milioni di euro l'accordo triennale firmato tra la Cunese Tecni Lab e l'Araba Balsam per la distribuzione e l'assistenza di macchine per la gestione automatizzata delle confezioni di farmaci in ospedali e farmacie. L'accordo nasce in seno a Fincap, un progetto della Camera di Commercio di Torino dedicato allo sviluppo internazionale del comparto ICT piemontese gestito dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione con il supporto dei partner Fondazione Torino Wireless e Polo ICT. Questi 3 milioni di euro sono un'ipotesi di lavoro che potrebbe allargarsi e andare addirittura oltre perché il mercato dell'Arabia Saudita è composto da 6.000 farmacie e una cinquantina di ospedali quindi noi possiamo operare in automazione e portare l'automazione a un grosso parco di farmacie e di ipotetici clienti quindi questo dato dei 3 milioni di euro rappresenta una soglia minima di ipotesi di lavoro che abbiamo concordato con la società Balsam. TecniLab è leader nel settore delle tecnologie ed è dal 1999 che ha deciso di investire nell'automazione per farmacie sistema che ora sta per espandere anche negli ospedali. L'azienda Balsam invece è una società di consulenze e servizi specializzata nel fornire soluzioni software e hardware per il settore medicale in Arabia Saudita. L'automazione infatti andrà fatta in sinergia con i software di gestione dell'ospedale. Una collaborazione nata all'estero per ampliare gli orizzonti vista anche la crisi economica che però potrà portare nuovo lavoro nel cuneese. Nel momento in cui partiranno questi nuovi mercati di conseguenza l'anello di produzione dovrà essere adeguato al lavoro evidentemente. Ma come funziona la macchina? Il meccanismo di base è quello di un classico archivio che collegato ad un computer carica le scatole di farmaci, le smista, le ordina nei cassetti per poi recuperarle e consegnarle al farmacista non appena l'ordine è stato eseguito. Così il farmacista non si dovrà allontanare dal bancone nemmeno un minuto. A Cune il sistema è già in funzione nella farmacia comunale di Piazza Europa in una versione meno aggiornata della farmacia Bottas in via Roma.